Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una sessione pomeridiana focalizzata sull'attivazione atletica, gli esercizi tecnici rivolti al possesso della palla e nella corrispondenza del campo ridotta ad alta intensità. Differenziata per Andrea Conti e Michael Quisans, Emil Audrero e Ignacio Possetto continuano a continuare il rispettivo processo di rilevamento invece. Tome il fine, venerdì, alla fine degli ultimi fini, l'elenco dei giocatori ha richiesto l'avanzamento con Sassuolo in programma alla Ferraris verrà comunicato.